E adesso arriviamo all'escrizione di tango argentino, perché questo? Perché le danze argentine sono un'altra delle discipline che i maestri svolgono nella loro scuola e a questo punto glielo rifacciamo l'applauso ai maestri, forte applauso ai maestri alti tanti di emozioni che hanno venuto stanno vivendo questo undicesimo che avrà in gala bene quindi gentili ospiti, la coppia di ragazzi che vedremo va insieme da solo pochi mesi ma si sono innamorati non di loro, così tanto di questo panno da chiedere ai maestri di poter fare un'esibizione e i maestri hanno subito detto così, vi abbottentavo, farete l'esibizione di tango argentino e noi accogliamo in pista Michele Di Pistessilia Rinaldi e quindi l'applauso ai maestri di a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.